Va! Harry e Hermione, scappate! È il gramo, scappate! Harry! Ron! Aspetta! Ron! Ron! Aiuto! Ron! 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 Forza! Sparta! Joe! Joe! Oof! Sì, 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 sì. Scusami. Non preoccuparti. Dove pensi che porti? Ho un'idea. Spero solo di sbagliarmi. Siamo nella Stamberga Strellante. Non è vero? Jenny. Ron! Ron! Stai bene? Il cane? Dov'è? Harry è una trappola, lui è il cane, è un animagus! Se vuole uccidere Harry dovrà uccidere anche lui! No, solo uno morirà stanotte. E allora sarei tu! Stai per uccidermi, Harry! Expelliarmus! Bene, bene, Sirius. Piuttosto mal ridotto, direi. Alla fine il fisico riflette la pazzia interiore. Tu sai tutto riguardo alla pazzia interiore, non è vero, Remus? Lo so, lo capisco. Uccidiamolo! No! Io mi fidavo di lei! E in tutto questo tempo lei era il suo amico! È un lupo mannaro! È per questo che mancava alle lezioni! Da quanto lo sai? Da quando Piton ci ha chiesto una ricerca! Ma che brava, Hermione! Sei la strega più brillante della tua età che abbia mai visto! Basta parlare, Remus! Avanti! Uccidiamolo! Aspetta! Ho aspettato a sufficienza! Ben dodici anni! Ad Azkaban!